Come possiamo aspettarci che il bitcoin e il settore delle criptovalute si evolvano nel corso del prossimo anno? Ciao a tutti e benvenuti al nostro canale dedicato al mondo delle criptovalute. Qui troverete aggiornamenti di mercato, recensioni di progetti e consigli per aiutarvi a prendere decisioni informate nel mondo delle criptovalute. Vi invito a seguirmi al canale per essere sempre aggiornati. Oggi, voglio condividere con voi un'interessante conversazione tenutasi alla Bitcoin Conference a Nashville, dove ho parlato con tre esperti del settore cripto, Johan Caret di Robinhood, Marshall Beard di Gemini e Dave Ripley di Kraken. Esploreremo le loro previsioni e riflessioni su ciò che potrebbe accadere nel 2025, mentre ci troviamo apparentemente in un nuovo ciclo di boom che fa parte dei cicli quadriennali storici delle criptovalute. Ma prima, poniamoci una domanda. Cosa potrebbe fermare o rallentare l'ascesa del Bitcoin? Gli esperti delle principali piattaforme di scambio di criptovalute, ovvero Robinhood, Gemini e Kraken, hanno discusso delle sfide che incontrano nel portare nuovi utenti nel mondo del Bitcoin. Dave Ripley di Kraken ha evidenziato come la principale difficoltà consista ancora nel comunicare il vero valore e significato del Bitcoin. Nonostante i fallimenti bancari e l'inflazione fiat, è essenziale trasmettere un messaggio chiaro e comprensibile su cosa rappresenti davvero il Bitcoin. Il focus non è solo sulle questioni tecniche come la sicurezza e la gestione delle chiavi, ma anche sul rendere comprensibile il concetto più ampio e astratto di una valuta decentralizzata. Marshall Beard di Gemini ha confermato che le problematiche rimangono simili a quelle dei precedenti cicli di boom. Il loro obiettivo è rendere l'accesso al Bitcoin il più semplice possibile, attraverso l'educazione e la riduzione delle frizioni per i nuovi utenti. Questo processo di onboarding include fornire strumenti educativi e funzionalità avanzate man mano che gli utenti si immergono più profondamente nell'ecosistema. Johan Keret di Robinhood ha sottolineato l'importanza di rendere il Bitcoin accessibile a tutti, offrendo diverse modalità di accesso come ETF e Bitcoin o conti di brocheraggio. Ha inoltre evidenziato la necessità di migliorare l'usabilità delle criptovalute, semplificando processi come il trasferimento di fondi, spesso complicato per i nuovi utenti. Un aspetto cruciale del dibattito è stato il ruolo della regolamentazione. Keret ha parlato della necessità di una regolamentazione che permetta di abbracciare il Bitcoin senza soffocare la sua essenza decentralizzata. Ha enfatizzato che, nonostante la regolamentazione sia inevitabile per le entità centralizzate, è importante preservare le caratteristiche fondamentali del Bitcoin come la resistenza alla censura e la permissionless nature. Dave Ripley ha aggiunto che, mentre la regolamentazione può avere un senso per le entità centralizzate che custodiscono chiavi altrui, il cuore del Bitcoin rimane una rete aperta e senza permessi. Il rischio, secondo lui, è che un'eccessiva regolamentazione possa contrastare con la natura decentralizzata della criptovaluta. Marshall Beard ha menzionato la crescente importanza politica del Bitcoin, con figure pubbliche come Michael Saylor che suggeriscono che persino le intelligenze artificiali preferiranno usare Bitcoin come valuta per la sua natura solida. Questo porta a riflettere su come l'adozione del Bitcoin potrebbe estendersi anche ai sistemi autonomi e digitali. Un argomento affascinante è stata la possibile intersezione tra intelligenza artificiale e Bitcoin. Ripley ha discusso di come una moneta digitale nativa e decentralizzata come il Bitcoin potrebbe integrarsi con i sistemi AI, specialmente in scenari dove la AI stessa diventa decentralizzata. Ioan Keret ha ipotizzato che le esigenze di elaborazione dell'AI potrebbero essere supportate dall'infrastruttura di mining del Bitcoin, creando sinergie inaspettate tra i due settori. Una domanda posta agli esperti è stata quella riguardante la volatilità del Bitcoin. Mentre per molti investitori la volatilità rappresenta un rischio, per altri è una caratteristica che offre opportunità di guadagno. Ripley ha notato che, storicamente, la volatilità del Bitcoin è in declino man mano che la liquidità e la partecipazione aumentano. Questo trend, secondo lui, continuerà con l'adozione crescente del Bitcoin come unità di conto, stabilizzando ulteriormente il prezzo. Con le elezioni presidenziali statunitensi all'orizzonte, il Bitcoin è diventato un tema politico caldo. Marshall Beard ha evidenziato come la posizione dei candidati sulla criptovaluta potrebbe influenzare il voto di molti americani. La conferenza stessa ha ospitato figure politiche come Donald Trump e Robert Kennedy, sottolineando l'importanza crescente del Bitcoin nel discorso politico. Gli esperti concordano sul fatto che la migliore raccomandazione per i nuovi arrivati sia iniziare ad esplorare il mondo del Bitcoin in prima persona, imparando e sperimentando direttamente. Quando si tratta di possibili ostacoli che potrebbero rallentare o fermare il Bitcoin, Dave Ripley ha indicato che, nonostante i progressi, il rischio di fallimenti interni al settore rimane. Episodi come quello di FTX mostrano che le difficoltà possono emergere dall'interno dell'ecosistema stesso. Tuttavia, la forza del Bitcoin risiede nella sua struttura decentralizzata e nella crescente adozione che ne rafforza la resistenza. Infine, gli esperti hanno condiviso le loro previsioni per il 2025. Marshall Beard prevede una maggiore adozione globale, con un numero crescente di giurisdizioni che approvano ETF Bitcoin, rendendo la criptovaluta più accessibile. Johan Keret ha aggiunto che questa adozione sarà sostenuta da un maggiore flusso istituzionale e dalla crescente consapevolezza del pubblico riguardo ai vantaggi del Bitcoin rispetto alle valute tradizionali. Dave Ripley ha osato prevedere un prezzo del Bitcoin di 200.000 dollari, sottolineando che l'adozione di Bitcoin come riserva di valore e strumento di pagamento continuerà a crescere, forse anche con l'adozione da parte di altre nazioni. Inoltre, con il passaggio del Bitcoin a una fase di «parola d'ordine» familiare, l'adozione potrebbe accelerare ulteriormente. Detto questo, grazie per aver seguito quest'analisi approfondita delle previsioni e delle riflessioni sul futuro del Bitcoin. Siamo entusiasti di vedere dove ci porterà questa rivoluzione finanziaria. Fino alla prossima volta, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti sul mondo delle criptovalute.